Anche la seconda parte del draft ci ha consegnato dei free agent. Dopo Omos, Mustafa Ali, Dolph Ziggler e Von Wagner, a questo insieme si uniscono Elias, Shelton Benjamin e Cedric Alexander, Xion Queen da NXT e soprattutto Baron Corbin, un atleta che più di tanti altri ha la necessità di ricostruire e rilanciare il suo personaggio. Tutti questi wrestler potranno accordarsi con Raw o con SmackDown e cercare un futuro in uno dei due brand a seconda del loro fiuto e anche delle opportunità che offrirà il domani. Ma attenzione perché tra i free agent, ce l'ha detto Triple H, a Raw, c'è pure Brock Lesnar. Il sindaco di Suplex City ha negoziato un nuovo contratto prima del draft, e chissà magari c'è lo zampino di Paul Heyman, che gli permette di comparire nel roster di suo piacimento, là dove vuole per fare quello che vuole. Quindi Brock Lesnar rimane un esemplare unico all'interno dell'ecosistema e dell'universo WWE, che sta sopra la legge e, da quanto ho capito io, potrà continuare a fare quello che più gli piace. Cosa ne pensate di questa idea dei free agents? Potrebbe funzionare? Avete qualche aspettativa per uno dei nomi che vi ho elencato? Oppure è una tavanata galattica, giusto per dare una sorta di parvenza, di ufficialità e di legittimità al Brock Lesnar di turno, che sorvola tutti gli altri con un set di regole tutte per sé? Beh, di Taro Venti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti.